Signore e signori ancora non c'è un governo come piace a me Signore e signori ancora non c'è un governo come piace a me E se potessi nominarlo è così che vorrei farlo Un ministro del caffellate per cominciare la giornata Con un sottosegretario per i biscotti e uno per la marmellata E se toccasse un mattino a un solo cittadino Di rimanere senza colazione via il ministro in prigione Dominerei un ministro per tutti i giocattoli Per tutti i peri grandi e peri piccoli Un ministro per le merende, merende dolci e salate Da mangiare con le mani o con le posate Mani e posate Un ministro per gli aquiloni Così che nel cielo ci siano solo colori, niente bombe o missiloni Allora cosa fai con questa? Questa lo serve e questa ci penso io Mesta la bomba nera da buttare contro i bianchi Butta la bomba nera, lascia la bomba bianca Allora la bomba bianca ci metto a due Questa bomba bianca ci penso io Questa è la bomba bianca da buttare contro i bianchi Butta la bomba bianca, lascia la bomba nera Puta la bomba nera, lascia la bomba bianca Fuc nello! Puta la bomba nera Puta la bomba nera, lascia la bomba bianca Fuc nello! ��! Fuc nello! Al posto del ministro della guerra Io ci metterei quello della pace Battete mille mani, battete mille mani, battete mille mani se il discorso vi piace Battete mille mani, battete mille mani, battete mille mani se il discorso vi piace Grazie a tutti.